Manca poco alle elezioni del nuovo presidente di Confindustria Assio Immobiliare. È recente la nomina dell'attuale presidente Silvia Rovere al ruolo di presidente di poste italiane. Tra le diverse candidature alla sua successione è quella di Mario Breglia, nome conosciuto nel settore da oltre 40 anni, a capo della sua creatura Scenari Immobiliari e con diversi ruoli in Banca d'Italia. Grazie dottor Breglia per voler condividere oggi con noi il suo programma. Un saluto a tutti e innanzitutto ringrazio Monitor Immobiliare, Maurizio, che ci ha dato l'opportunità, diciamo noi candidati di Asso Immobiliare, di presentarci attraverso questo strumento così prestigioso come il suo giornale. Per parlare diciamo del futuro di Asso Immobiliare innanzitutto bisogna parlare del recente passato e del lavoro importantissimo che Silvia Rovere come presidente ha svolto negli ultimi anni. È riuscita quasi a triplicare gli iscritti, a dare un ruolo e un peso nazionale ad Asso Immobiliare. Tutti noi la ringraziamo. Io fino a due giorni fa pensavo, nel caso fossi stato eletto, di darle l'opportunità di continuare a Asso Immobiliare come vicepresidente, però ahimè la Melone mi ha tolto questo sfizio nominandola presidente delle poste italiane e quindi come tutti noi del mondo immobiliare le facciamo gli auguri per il nuovo incarico assolutamente meritato. Quale può essere il prossimo futuro di un'associazione come Asso Immobiliare? Beh innanzitutto continuare nel lavoro che ha iniziato Silvia e la segretaria Poli e le altre persone che stanno collaborando molto bene con loro nella sede centrale. Io mi sono posto, diciamo così, a alcuni punti che ho dato ai miei amici e ho presentato anche, diciamo, all'associazione, che ho sintetizzato in 5 C. La prima C è quella di crescere. Questa organizzazione è ancora molto milano-centrica e un po' legata a Roma. È importante una crescita in orizzontale, cioè una copertura di tutti quei settori che sono collegati al mondo dell'SGR e al mondo dei servizi. Gli studi professionali, le società nuove che fanno innovazione nel mondo del real estate. C'è una crescita di tutto il mondo del real estate che questa associazione deve saper rappresentare, altrimenti lo prendono altre società, altre associazioni. È importante poi anche una crescita in verticale, cioè una società, un'associazione, scusate, non solo concentrata su due città, ma deve avere una rappresentanza nazionale. Il Sud, le ali del Paese, Torino, Venezia, diciamo, tutte le realtà dinamiche del Paese vanno intercettate e messe nell'interno. La seconda C è quella di conoscere sicuramente la cultura all'interno del settore, ma soprattutto la conoscenza del mondo immobiliare. In tutta la mia vita sono stato orgoglioso di lavorare in questo settore anche nei momenti più difficili. Ecco, dobbiamo trasmettere quell'orgoglio del real estate, l'orgoglio di chi lavora per migliorare le città italiane a tutti, innanzitutto a chi lavora all'interno del nostro settore. La terza C è la cultura. Va sviluppata la cultura non solo immobiliare, ma la cultura sulle città, la cultura del territorio, innanzitutto ai giovani di cui questo settore ha enormemente bisogno. La cultura che dobbiamo incentivare con ricerche, studi, collaborazione con le università, con i centri ricerche e così via, va poi utilizzata in modo pratico per le leggi, per i regolamenti che hanno a che fare con il nostro settore. La quarta C è la connessione. Innanzitutto connettere tra di loro gli associati e il mondo del real estate. Proporrò di fare da subito almeno un incontro al mese o a Milano, a Roma o successivamente in altre città su temi specifici perché non solo ci sia solo la conoscenza e la cultura, ma anche il rapporto tra tutti i vari associati. Come si diceva banalmente, da cosa nasce cosa. Quindi noi dobbiamo anche consentire e accelerare, cosa che è fatto normalmente in questi trent'anni come scenari immobiliari, ma non basta. L'associazione deve essere molto più ampia di quello che può fare un singolo istituto di ricerca. È necessario anche concentrarsi su alcuni temi. Le mie priorità per il mondo del real estate sono due, non solo una novità per chi mi conosce e per chi ha seguito tutti i nostri eventi. Innanzitutto la residenza. Sappiamo che è l'asset class più importante per gli investitori istituzionali e internazionali da molti anni. Da noi è ancora agli inizi, sono timidi i tentativi. È importante investire nella residenza soprattutto per la locazione, per categorie particolari, gli studenti, gli anziani, il mondo del turismo. È necessario incentivare gli investimenti nella residenza in questo paese. È una tematica immobiliare, ma anche sociale fortemente economica ed è un tema che va presentato e spinto alla politica. Seconda area importantissima per il futuro del nostro paese, ma anche per il futuro dell'immobiliare, la rigenerazione urbana. Migliorare le città, svilupparle, non solo piccoli punti, piccoli interventi, quelli già si fanno. Oggi c'è bisogno di interventi di scala più grande, dove anche il mondo delle grandi società, dei grandi operatori italiani e internazionali, possa esserci, possa essere presente. Che cosa può dare Mario Breglia in questa situazione? Un'esperienza più che quarantennare nel mondo del real estate, un'ampia conoscenza. Io ho detto nel momento in cui mi sono candidato, voglio restituire al mondo dell'immobiliare molto di quello, un po' del molto che ho avuto in questi decenni in termini di competenze, conoscenze, rapporti umani. È importante che l'associazione abbia una presenza permanente e continua col mondo delle istituzioni. Le mie esperienze degli ultimi anni sono servite, immagino, anche in questa direzione. È importante dialogare con un rapporto franco, ma continuo, con la politica, con le istituzioni. Soprattutto utilizzare questo momento in cui il mondo politico è cambiato, ci sono le facce nuove, anche per impostare dei ragionamenti nuovi che forse possono avere maggiore porta di accesso, maggiore facilità di lettura rispetto a quello che si è fatto prima. Ho in mente una squadra di pochi vicepresidenti operativi e non solo d'immagine che sappiano affiancare un presidente che può dare un po' di esperienza e un po' di rapporti, che sappiano affiancare con delle deleghe vere. Perché in premessa dicevo il mondo dell'immobiliare è cresciuto. Anche la rappresentanza non può essere in mano a un presidente, non esiste il superpresidente con i superpoteri. Bisogno di presidenti, possibilmente giovani, ma capaci, uomini e donne allo stesso numero. Questo è il mio piccolo programma. Ringrazio ancora per il vostro ascolto e per il tempo che Maurizio Cannone e la redazione di Monitor Immobiliari mi hanno voluto dare. Grazie a tutti.